Benvenuto alla Miami Mutual Bank, posso aiutarla? Vorrei incassare questo assegno e poi vorrei invitarti a mangiare come una bistecca. Tu sei un pilota vero? In carne e ossa signorina. Lo strapuntino è disponibile. Passate un po' di tempo dall'ultima volta, qual è lo strapuntino? Dov'è ancora sempre un protocorso. Dov'è ancora sempre un protocorso. Questa è la prova inconfutabile che l'imputato sta mentendo. Agente speciale Arretti, FBI. Ciao, Carlo. Ti prenderanno, è come Las Vegas, vince sempre il banco. È un matto che vola travestito da pilota, lo chiamano il James Bond dei Cieli. Ciao, pupa. Questa è la più bella serata della mia vita. È un ragazzo, ecco perché non ha precedenti penali. Prendermi le grammi di codeina ogni quattro ore. Lei concorda? Concordo. Dottore Harris. Sì, lei concorda? Concordo. Con cosa, collega? Signora, mi dispiace ma suo figlio sta falsificando assetti. Vorrei incassare l'assegno del mio stipendio. Lavoro part time per la chiesa adesso. Mi dica quanto deve e pagherò io. Un milione e trecentomila dollari. Per aiutarmi a scegliere otto ragazze che faranno parte del concorso future hostess della Pan Am. Sud America, Australia, Singapore, sono così perfetti che la banca non ha notato la differenza. Che cosa vuoi? Farti le misose. Non hai chiamato per chiedere scusa, vero? Non sai che altro chiamare. Va cercando suo figlio. Io non denuncerei mai mio figlio. Se lei fosse un padre lo capirebbe. Smetti di darmi la caccia. Non posso mollare, è il mio mestiere. Vedi quella gente che ti fisse? Si voltano a guardarti, chiedendosi dove te ne andrai stasera. Dove te ne vai, Frank? Signore, così lo faremo scappare. No, Carl, tu l'hai fatto scappare. Buon Natale a tutti! Il cerchio sta per chiudersi, andrà in prigione. Prova a prendermi!